In questo tutorial vediamo degli esempi di problemi numerici risolubili attraverso le disequazioni di primo grado. Partiamo da questo primo esempio. Trova quei numeri naturali che sono maggiori o uguali al loro quadruplo diminuito di 9. Per risolvere questo esercizio, come prima cosa, dobbiamo mettere in evidenza che i numeri che stiamo determinando devono essere numeri naturali, e allora scrivo che x deve appartenere all'insieme dei numeri naturali. Dal testo sappiamo che dobbiamo trovare quei numeri che verificano la seguente proprietà, ossia quei numeri x che sono maggiori o uguali, e allora scrivo il simbolo maggiore o uguale, al loro quadruplo, e quindi scrivo 4x diminuito di 9, e quindi scrivo meno 9. Ottengo così una disequazione che vado a risolvere. Porto 4x a primo membro x meno 4x maggiore o uguale di meno 9. x meno 4x è pari a meno 3x maggiore o uguale di meno 9. Visto che il coefficiente della x è negativo, moltiplico tutte e due membri per meno 1 e cambio verso 3x meno o uguale di 9. Divido ora tutte e due membri per 3. In questo modo semplifico il coefficiente della x. 9 diviso 3 è pari a 3 e allora scrivo x minore o uguale di 3. Ricordo che i numeri x che dobbiamo determinare sono numeri naturali e i numeri naturali minori o uguali a 3 sono 0, 1, 2 e 3. Potrei scrivere così la soluzione oppure indicarla algebricamente, ossia x compreso uguale tra 0 e 3, sempre con x appartenente all'insieme dei numeri naturali. Passiamo a questo secondo esempio. Determina il massimo valore che possono avere tre numeri pari consecutivi in modo tale che la loro somma sia minore o uguale a 120. Dal testo possiamo dedurre che dobbiamo andare a determinare il massimo valore di tre numeri pari consecutivi. In generale un numero pari si indica con 2x. Il consecutivo pari di 2x si scrive 2x più 2 e il consecutivo del consecutivo si scrive come 2x più 4. Dal testo sappiamo che dobbiamo determinare il massimo valore di questi tre numeri in modo tale che la loro somma, e allora scrivo il primo numero 2x più il secondo numero 2x più 2 più il terzo numero 2x più 4, deve essere minore o uguale, e allora scrivo il simbolo di minore o uguale, di 120. Ottengo così una disequazione che vado a risolvere. Come prima cosa sommo i termini in x. 2x più 2x più 2x ottengo 6x. 2 più 4 è pari a 6 che scrivo a secondo membro, minore o uguale di 120 meno 6. 6x meno 6 è pari a 114. Divido ora tutte e due membri per 6 e semplifico il coefficiente di x. 114 diviso 6 è pari a 19, e allora scrivo x meno o uguale di 19. Ancora non abbiamo finito, lo scopo è andare a determinare il massimo valore di questi tre numeri. Il massimo valore dei numeri naturali che si trovano tra 0 e 19 risulta essere 19, e allora posso scrivere il valore massimo che x può assumere risulta essere 19. Una volta determinato il valore più grande che x può assumere, torniamo ai tre numeri che dobbiamo determinare. Al posto di x sostituisco 19. 2x19 ottengo 38, poi 2x19 più 2 si ottiene 40, e poi 2x19, visto che x vale 19 più 4 si ottiene 42. E allora i numeri che dovevamo determinare erano 38, 40 e 42. Passiamo a questo terzo esempio. Determina il massimo valore che possono avere due numeri dispari consecutivi in modo tale che la loro somma sia minore di 44. In generale un numero dispari si indica come 2x più 1. Il consecutivo dispari di 2x più 1 è pari a 2x più 3. Dal testo sappiamo che dobbiamo determinare il massimo valore di questi due numeri in modo tale che la loro somma, e allora scrivo primo numero 2x più 1 più secondo numero 2x più 3 deve essere minore di 44. Ottengo così una disequazione che vado a risolvere. 2x più 2x ottengo 4x minore 1 più 3 è pari a 4 che scrivo a secondo membro, 44 meno 4. 44 meno 4 è pari a 40, e allora scrivo 4x minore di 40. Divido ora tutte e due membri per 4 e semplifico il coefficiente della x. A secondo membro ho 40 diviso 4 è pari a 10, ed ottengo x minore di 10. Visto che stiamo parlando di numeri dispari, x deve essere un numero naturale. Sappiamo anche che x deve essere minore di 10, e allora i numeri naturali minori di 10 sono da 0 fino a 9 incluso. Dal testo sappiamo che dobbiamo determinare il massimo valore di questi due numeri e per determinare il massimo valore di questi due numeri dobbiamo andare a prendere il massimo valore che x può assumere. Il massimo valore risulta essere pari a 9, e allora al posto di x qui e qui sostituiamo 9. 9 per 2 è 18, più 1 ed ottengo 19. 2 per 9 ottengo 18, più 1 ed ottengo 19. 2 per 9 ottengo 18, più 3 ed ottengo 21. E allora i numeri che dovevamo determinare erano 19 e 21. Passiamo a questo quarto esempio. Determina quei numeri che, diminuiti del 20%, sono minori di 20. Per risolvere questo esercizio indichiamo con x i numeri che dobbiamo andare a determinare. Dal testo sappiamo che questi numeri godono della seguente proprietà. Diminuiti del loro 20%, e allora scrivo x meno il 20% del numero, ossia 20 fratto 100x, e quello che si ottiene deve essere minore di 20. Ottengo così una disequazione che vada a risolvere. Come prima cosa semplifico 20 centesimi. 20 diviso 20 ottengo 1, 100 diviso 20 ottengo 5. Quindi ho x meno un quinto x minore di 20. A primo membro eseguo il minimo comune multiplo, è 5, e allora posso scrivere 5x meno x minore di 20. 5x meno x ottengo 4 fratto 5x minore di 20. Ora, per semplificare il coefficiente di x, moltiplico tutte e due membri per 5 quarti. In questo modo semplifico 4 con 4, 5 con 5. A secondo membro posso semplificare 20 con 4. 4 diviso 4 è 1, 20 diviso 4 è 5. Infine eseguo questa moltiplicazione, 5 per 5, ed ottengo x minore di 25. Vediamo quest'ultimo esempio. Trova quei numeri interi che, sommati alla loro metà e alla loro terza parte, superino al meno di 20 il doppio del numero stesso. Dal testo sappiamo che i numeri che dobbiamo andare a determinare sono numeri interi e allora posso scrivere che x appartiene all'insieme dei numeri interi. Dal testo sappiamo che i numeri che dobbiamo determinare x sommati alla loro metà e allora scrivo più un mezzo x e alla loro terza parte, e quindi scrivo più un terzo x, superino al meno di 20 e quindi scrivo maggiore uguale il doppio del numero stesso e allora devo scrivere 2x, ossia il doppio del numero, più 20. Ottengo così una disequazione che vado a risolvere. Come prima cosa eseguo il minimo comune multiplo a primo e a secondo membro il minimo comune multiplo risulta essere pari a 6. Moltiplico 6 per x e scrivo 6x, poi 6 diviso 2 ottengo 3, per x e scrivo 3x, poi 6 diviso 3 è 2, per x e scrivo più 2x. A secondo membro moltiplico 6 per 2 ed ottengo 12x e poi 6 per 20 ottengo più 120. Semplifico ora i denominatori. A primo membro sommo le x, 6 più 3 è 9, più 2 ed ottengo 11x. Porto 12x a primo membro meno 12x maggiore uguale di 120. 11x meno 12x ottengo meno x maggiore uguale di 120. Visto che il coefficiente di x è negativo, moltiplico tutte e due i membri per meno 1 e cambio verso x meno uguale di meno 120. E allora i numeri interi che verificano questa proprietà sono i numeri minori uguali a meno 120. E con questo termino il tutorial su esempi di problemi numerici risolubili attraverso le disequazioni di primo grado.